Io sono Renato Giannelli e sono il presidente dell'Associazione Nazionale Malati Rheumatici. È sempre un piacere di trovarci al congresso annuale della SIR perché è il momento in cui possiamo fare un esame di quello che è stato fatto durante l'annata e preparare anche negli incontri quello che dovrà continuare a essere fatto. Quest'anno noi con la SIR e insieme alla SIR, insieme al CREI e insieme anche agli universitari siamo stati insieme al Ministero per cercare di portare avanti la reumatologia in Italia. Credo che una collaborazione stretta fra medici e pazienti sia importantissima soprattutto per creare un'organizzazione che permetta di arrivare a una vera diagnosi precoce e arrivare anche a una modalità che permetta ai reumatologhi di diventare il punto di riferimento delle malattie reumatiche insieme creando una sorta di collaborazione con tutti gli altri specialisti. Credo che dovremmo incominciare a parlare di reuma unit, cioè di un'unità in cui i reumatologi si occupano dell'intero quadro delle malattie reumatiche e utilizzando i percorsi di agnosi terapeutica sentenziali di cui noi come associazione dei pazienti siamo riusciti ad ottenere un avallo da parte della conferenza Stato-Regioni che dovrà essere il percorso, mentre i reumatologi dovranno, e sarà nel loro compito esclusivo, fare i protocolli per le singole patologie. Dobbiamo lavorare insieme per riuscire a far sì che questo si diventi operativo nelle varie realtà. Sarà un bene per noi malati e per le casse dello Stato. Il reumatologo dovrebbe diventare il punto di riferimento delle malattie reumatiche e dovrebbe essere colui che decide le nostre terapie, che capisce quali sono le nostre soluzioni, ma soprattutto nel seguimento del malato deve avere anche una visione internista. Cioè, oltre ad essere uno specialista, deve riuscire a cogliere i segnali deboli di ricomplicazione che possono investire tanti altri tipi di organo, pertanto dal cuore a quello che può essere i polmoni, i cosi, eccetera, eccetera, e diventare un punto di riferimento per tutto questo comorbidità. L'innovazione consente di avere nuove farmaci, ma soprattutto meno invalidanti e nello stesso tempo molto più friendly, come direbbero quelli che sanno parlare bene, e che a un certo punto permettono di poter fare un sottocute rispetto a fare un'infusione, è una cosa importante, solo se è sotto l'aspetto lavorativo che è di perdita di tempo. Credo che l'innovazione, entrando nel problema delle farmaci, ad esempio, oggi come oggi si parla molto di biosimilari, e credo che i biosimilari, ad esempio, siano un argomento che dovrà interessare sempre, che sia il medico il responsabile di dare o non darle, ma che comunque anche sotto l'aspetto economico credo che sia un falso problema, perché l'innovazione farà sì che oggi i farmaci che vengono considerati, diciamo, di ordinare amministrazione, fra pochi anni saranno probabilmente sostituiti da altri. Io credo che dovrà essere attuata finalmente la scheda di patologia, quella che partendo dall'anamnesi arrivi alla cura e al seguimento del malato. Questo farà sì che avremo una vera classistica, una vera storia delle patologie e diventeranno per questo uno strumento formativo, ma anche uno strumento di controllo del buon andamento clinico, perché questo permetterà di poter sapere cosa viene fatto nei confronti dei malati. Se poi in un prossimo futuro, insieme a questa scheda, ci uniremo le analisi mediche, nonché un diario del paziente su come lui sta, ci avvieremo almeno in parte sulla strada della telemedicina.